Un mazzo di fiori depositato sul ponte Amerigo Vespucci dal sindaco Dario Nardella in ricordo del senegalese IDDN ad un anno esatto dalla tragica morte del 53enne ambulante ucciso a sangue freddo con due colpi di pistola sparati dall'ex tipografo Roberto Pirrone, condannato in seguito a 16 anni di carcere in rito abbreviato dal Tribunale di Firenze. Siamo venuti a ricordarlo perché non solo le istituzioni ma anche tutta la città non dimentichi cosa è successo quel 5 marzo perché è giusto che una comunità ricordi tutti i suoi morti soprattutto coloro che sono morti per mano omicida in modo così folle e assurdo. Un gesto simbolico per trasmettere la vicinanza di tutta la città all'intera comunità senegalese e per dimostrare che i fiorentini sono pronti a tenere alta l'attenzione verso ogni forma di intolleranza e violenza. Nardella ricorda anche lo speciale rapporto tra IDD e tutto l'oltrarno fiorentino. Dien era infatti conosciuto come l'ombrellaio del quartiere ed era amato ed apprezzato da tutti per il suo sorriso e la sua umanità. Abbiamo deciso proprio agli artigiani del quartiere dell'oltrarno di commissionare un'opera d'arte commemorativa di IDDN per avere anche una testimonianza materiale del legame tra lui e questo straordinario quartiere.